Un uomo di 42 anni, nato ad Eboli ma residente a Palomonte, è morto ieri pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo a seguito di un incidente stradale avvenuto in direzione sud ad un chilometro dall'uscita di campagna. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i volontari dell'Humanitas, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne e hanno soccorso altre sei persone rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe fermato perché la sua auto era rimasta in panne e sarebbe stato travolto da un'altra vettura che sopraggiungeva.